Ciao a tutti, sono Luca e sono qui per parlare del corso di Patrizia Setteeducati che verte sul channeling. Raccomando assolutamente di frequentare questo corso perché ho constatato di persona che attraverso le tecniche che vengono insegnate permette di aumentare enormemente il potenziale della propria mente. Tra l'altro Patrizia, ho riscontrato di persona, è una grandissima professionista, ha ormai parecchi anni di esperienza, è una persona estremamente seria ma anche giocosa quando è il caso di esserlo. Raccomando assolutamente di frequentare il suo corso perché è strutturato secondo un programma collaudato e che permette comunque a tutti di mettersi alla prova e di valutare quelle che possono essere le proprie capacità in ambito in ambito mentale e di canalizzazione. Buon divertimento, ciao!